ciao a tutti e a tutte io sono Angela benvenuti a questa puntata di conosciamo le sibile con il mazzo i misteri della sibilla di cui trovate i link in descrizione per vedere la video recensione e per acquistarlo nel caso vi piacesse se volete vedere le altre puntate che compongono questa serie cliccate in alto a destra per accedere alla relativa playlist bene entriamo nel vivo della puntata con l'analisi dei quattro due la prima sibilla che andremo ad analizzare è il due di cuori dal titolo casa l'immagine che vedete qui a fianco raffigura una casa vista dall'esterno circondata da un giardino l'inquadratura suggerisce a livello simbolico un senso di protezione un rifugio sicuro e lontano da occhi indiscreti fisicamente la casa rimanda alla famiglia all'intimità del soggetto della lettura i significati principali della carta sono serenità stabilità protezione e piacevoli sorprese gli aspetti al dritto si riferiscono a tutto ciò che dona sicurezza ed equilibrio oltre ai luoghi conosciuti e la propria casa ci sono anche tutti i luoghi dove sentirsi come a casa e a proprio agio i rapporti sono sereni o in equilibrio può esserci un nuovo amore o una pacificazione e riconciliazione con ritorno di una vecchia passione le sorprese possono riferirsi ad un incontro casuale o l'arrivo imprevisto di qualcuno in un momento difficile si può ricevere un conforto o protezione a livello morale o anche economicamente in campo lavorativo può esserci l'arrivo di denaro o una promozione gli aspetti con la carta al rovescio o in ambito negativo di un metodo sono uno stato di chiusura e insoddisfazione in generale la nostalgia senso di colpa per dei malintesi con le persone più care frustrazione perché si è obbligato a frequentare luoghi poco piacevoli si ha voglia di certezze che purtroppo al momento della lettura mancano un rapporto d'amore o anche di lavoro può essere complesso e deludente la casa corrisponde al due di cuori che in primis parla di forti emozioni e sentimenti in amore e che possono sfociare in grandi momenti di gioia ma può riguardare situazioni vantaggiose anche in ambito lavorativo ed economico tempi di realizzazione coprono coprono un periodo che va indicativamente dal 2 maggio al 2 giugno la carta della casa consiglia di cercare un luogo dove sentirti a sicuro per riflettere riposare o stare momentaneamente lontano da situazioni difficili la seconda similla che andremo ad analizzare è il 2 di quadri dal titolo lettera nell'immagine che vedete qui a fianco è stata disegnata una lettera con la sua busta e un calamaio il simbolo è molto semplice da interpretare e si riferisce alla comunicazione anche se è un mezzo ormai poco utilizzato è comunque molto evocativo e i significati rimandano a tutti i tipi di comunicazione i significati principali della carta sono ricezione di tutti i tipi di notizie scambi di idee e richiesta di informazioni sempre collegata alle notizie gli altri aspetti al dritto riguardano inviti e documenti che possono portare a decisioni importanti da prendere sono in arrivo avvenimenti se positivi o negativi saranno specificati dalle carte vicine dopo tanta attesa e impegno nella vita sentimentale o nel lavoro ci sarà presso soddisfazione e la realizzazione di un progetto forse anche grazie all'aiuto di qualcuno gli aspetti con la carta al rovescio o in ambito negativo di un metodo sono l'arrivo di notizie spiacevoli, momenti di incertezza e preoccupazione in amore ci sono dubbi, segreti o relazioni nascoste altre difficoltà possono essere causate anche da situazioni che non si sbloccano cattiva gestione delle proprie finanze e spese eccessive la lettera corrisponde al 2 di quadri che indica sempre la ricezione di notizie negative o positive e inoltre parla di colloqui e conversazioni possono esserci due opportunità di guadagno o di lavoro e novità che bisogna valutare senza fretta i tempi di realizzazione sono abbastanza brevi nell'arco di pochi giorni se chiedete quando avverrà un evento soggetto della lettura i tempi vanno dal 28 aprile al 2 mazzo questa carta consiglia non aver fretta di agire e prendere decisioni prenditi il tempo per riflettere, raccogliere informazioni e aspettare il momento giusto la terza sibilla che andremo ad analizzare è il 2 di fiori dal titolo Superbia l'immagine che vedete qui a fianco raffigura un pavone simbolo di bellezza, regalità e purezza spesso però viene associato alla vanità, alla superbia e alla lussuria probabilmente il fatto che la sua coda sia chiusa può significare una chiusura nei confronti degli altri o delle situazioni per questi motivi questa carta non è semplice da interpretare i significati principali della superbia sono successo, orgoglio e sorpresa gli aspetti al dritto riguardano una sana ambizione che porterà ad ottenere successo e soddisfazioni in qualsiasi caso bisogna essere prudenti e non montarsi la testa d'altro canto la carta della superbia in eccesso può riflettere un atteggiamento di distacco, freddezza e superiorità nei confronti di qualcuno mentre riguardo una situazione può portare a sottovalutare l'importanza di risolvere problemi oppure essere troppo sicuri di ottenere un risultato che non viene raggiunto per interpretarla al meglio bisogna osservare le carte vicine se il contesto è positivo il significato può annunciare gioia, buone notizie, risoluzioni di problemi e nuove conquiste sentimentali se il contesto è negativo può annunciare qualcosa di spiacevole cattive notizie, problemi e conquiste passeggere gli aspetti con la carta al rovescio o in ambito negativo di un metodo sono problemi e blocchi legati ad indecisione superficialità e arroganza si possono subire atteggiamenti narcisistici litigi e discussioni infinite senza risoluzione in amore e lavoro ci possono essere contrasti e ostacoli dovuti a rivalità e invidia la superbia prevede solitudine, eccessiva chiusura e prudenza che frena cambiamenti positivi inoltre si può avere difficoltà ad ammettere errori o i propri limiti attenzione ad un eccesso di ostinazione e presunzione perché si possono commettere errori la superbia corrisponde al 2 di fiori carta complessa perché può indicare incertezza e immobilità o all'opposto l'eccessiva sicurezza può portare sorprese sgradevoli e rotture di rapporti sentimentali o lavorativi i tempi di realizzazione di un evento previsto vanno dal 28 marzo al 2 aprile questa carta consiglia di andare oltre le apparenze di lasciare andare l'orgoglio e ridimensionare le proprie aspettative la quarta ed ultima similla di questa puntata è il 2 di picche dal titolo Vecchia Signora l'immagine che vedete qui a fianco rappresenta una donna anziana dall'aspetto dolce e gentile in alcune letture puoi indicare una persona molto stretta al consultante come la nonna, una madre, la zia o semplicemente una conoscente giovane ma con una mentalità antiquata a livello metaforico si riferisce a tutto ciò che è vissuto e passato i significati principali della carta sono la valutazione obiettiva dei progetti accantonati da riprendere ricevere una visita in attesa gli aspetti al dritto della vecchia signora rivelano tutti gli avvenimenti legati al passato che in un certo senso possono ritornare perché non risolti o si tratta di andare a recuperare esperienze già vissute e che possono essere utili nel presente può portare alla conclusione dei situazioni difficili e conflittuali soprattutto nelle relazioni ma si dovrà comunque interpretare in base alle carte vicine perché in un contesto positivo è in arrivo un periodo sereno piacevoli notizie e visite inattese buoni risultati da vecchi progetti con abbinamento negativo invece porta difficoltà a risolvere problemi e inoltre ci possono essere dissapori e ostilità di vecchia data con persone care o nell'ambiente di lavoro gli aspetti con la carta al rovescio o in ambito negativo di un metodo sono rigidità, debolezza sia fisica che soprattutto mentale critiche eccessive e troppo esigenti e può segnalare la fine di qualcosa di positivo o di un rapporto d'amore o di amicizia infine ci possono essere degli influssi esterni negativi che non dipendono dalla propria volontà e quindi bisogna essere molto prudenti una particolare attenzione deve andare alle persone delle quali ci si fida perché potrebbero rivelarsi sleali e false in qualsiasi caso per evitare errori meglio non confidarsi e non rivelare cose private molto importanti la vecchia signora corrisponde al 2 di picche che come tutti i due porta sempre un aspetto di dualismo e di incertezza le carte vicine possono dare ulteriori informazioni in aspetto positivo, con equilibrio, scelte corrette e sincerità altrimenti si può parlare di dubbi, contrasti e scelte non eque i tempi di realizzazione coprono un periodo che va dal 28 giugno al 2 luglio la vecchia signora consiglia di rinnovare vecchi schemi che legano al passato o che non permettono una crescita personale o l'evoluzione positiva di una situazione bene, spero di essere stata utile ed esauriente se volete vedere all'opera le sibille di cui abbiamo appena parlato in questa schermata trovate la playlist con l'oroscopo settimanale in cui le utilizzo vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto ciao